L'Abruzzo Ficcomicio nacque in regione, negli uffici regionali a Sulmona, simbolicamente baricentrica di tutta l'Abruzzo nella padella di Sulmona, funzionari che voglio ringraziare ancora oggi ci lavorano, non è efficace, non è efficiente perché è interamente pubblica, serve in realtà uno strumento più snello che è quello utilizzato da tutte le regioni più virtuose, che hanno visto questa esperienza in maniera più virtuosa, che è quello della fondazione. Si faccia questa fondazione immediatamente, si mobilitino tutti i comuni, per questo la presenza oggi di due comuni simbolici, uno delle aree di montagna, Rocca di Mezzo, e uno dell'area costiera, Vasto, sapete, uno dei comuni più belli d'Italia e d'Europa. Serve che la fondazione venga partecipata dai 305 comuni, dalle province, dai parchi, che poi sono quelli che in genere vincolano di più territori, perché che cosa è che chiedono soprattutto le produzioni cinematografiche? Non è tanto le risorse o esclusivamente le risorse, è che trovino un humus, un territorio pronto, predisposto in termini di permessi, di autorizzazioni, serve sburocratizzare il territorio, così che una produzione, quando viene in un territorio, in un comune, a parlare con un comune che deve girare un film, serve che ci sia una predisposizione, un funzionario di riferimento, autorizzazione, conferenze di servizi organizzati. Noi siamo a disposizione, l'assessore Tamario l'ho incontrato, so che mi ha dato una grande disponibilità, c'è un direttore molto bravo, Germano De Santis, che sto lavorando, si acceleri, noi non vogliamo fare polemica, sì, si sono fermati, c'è stata la pandemia, però hanno una marea di risorse che non avevamo come parti politiche, non abbiamo bisogno di metterci cappello, questa è un'esperienza che deve convolgere tutto l'Abruzzo, a prescindere dal colore politico, a prescindere dall'appartenenza dei sindaci, si convolgano le migliori esperienze professionali, le migliori espertise dell'Abruzzo e qui ci sono talenti straordinari, persone che operano nel mondo della produzione cinematografica, televisiva, audiovisiva, radiofonica, si convolgano il know-how che c'è locale e noi siamo pronti a tendere la mano e a lavorare con la giunta regionale per realizzare questo che è un sogno di tutti gli abruzzesi.